Buon a tutti i pocafamotici e bentornati sul mio canali, io sono Furobintendo e oggi siamo tornati su Pokemon Let's Go Eevee per fare l'episodio più importante di tutti. Già, prima di iniziare però, SIGLA! Allora, in questa episodio siamo tornati su Pokemon Let's Go Eevee, in questo episodio cattureremo il leggendario principale. E poi finirà quasi il Let's Play, quasi, non ancora attualmente, però ok. Allora, bisogna andare di qua per questo Pokemon. Allora, piccolo consiglio, questo allenatore qui affrontatelo adesso, ok? Bene. Allora, cosa mi dai? Mi dai, mi dai? Megacorno, bene. Ok, spero che la possa imparare qualcuno. È un Pokemon terrificante, ma chissà è vero, ok? Sì, ok, già l'ho letto, sì. Allora, spero che la possa imparare qualcuno, Megacorno, e spero che sia anche utile. Porta MT? Nessuno può impararla? Tipo è? Con le Ottero, beh, infatti. Ok, come sta la mia squadra? Ok, si può fare, vai. Allora, quindi entriamo nella grotta. Benvenuti tutti quanti. Nella grotta celeste. Dunque, allora. Si parte tutto quanto con un fiumiciato, con un torrente. Si parte. Magica, per via. Ci sono anche degli oggetti, che possono risultare utili. Poliwag, già ti ho preso. Qua c'è possibilità che tipo mia paglia ti è tipo un Polifrat, una cosa del genere. Va bene, me lo andrò a vedere adesso. Allora, non so il percorso a memoria, lo dico prima. Sì, vai. Spero che appaglia quel Polifrat, spero. Poliwag ancora. Togliti Poliwag. Ok. Oddio, come l'ho schivata. Ancora Magikarp. Ok. Dunque, allora di qua che c'è? Dobbiamo arrivare là sotto, tanto per dirne una. Adesso, non mi ricordo bene come ci si arriva tramite una scala. Sì, vabbè. Per forza. Qua che c'è? Una cura totale, abbastanza utile. Tanto contro Mewtwo utilizzeremo l'arma suprema. Graveler. Un altro Graveler. Qua. Revitalizzante Max, molto utile. Ok, allora, vai. Dovremmo essere arrivati a quel punto, infatti. Golbat. Golbat. Via. Ok. Ah, e comunque, off camera. Sono finalmente riuscito a fare tutti quanti i toni segreti, quindi... Meglio così. Revitalizzante Max, ok. No, Golbat. Cinque Ultraball, molto utili direi. Anche se ormai non credo che ci servano più a tanto ormai, credo. Credo. Caramella Lara, questa è molto utile. C'è un sì. Adesso, quale sarà la scala giusta? Questa, suppongo. È questa? Sì, è questa. Bene. Non so quanto ti verrà lungo questo video, ma credo abbastanza corto, credo. Oh, Likitang. C'è l'Olikitang? Mi sembra di no. Aspettate, non si fa così. Vieni subito qua, Likitang. Vieni subito qui. Perfetto, dunque. Allora, un altro Likitang. Togliti. Ok, allora mi levo di mezzo io. Un piccolo fiumiciatolo. Un sacco di cose da prendere qui. Funne di fuga, abbastanza utile. Perché così usciamo dalla grotta prima. E dovremmo essere ormai quasi arrivati ormai. Al punto dove si trova questo Pokémon. Ricarica totale? Meh. Credo, non lo so. Qua? Niente. Graveler, togliti. Qua? Elisir Max, ok. Oh, mi sa che ormai ci siamo. Ormai. Sì, vai. Perfetto. Ci siamo ormai? Oh, eccolo lì, amici miei. Mewtwo. Dunque. Allora, io di squadra mi sono subito preparato a correre. Però voglio un attimo regolare delle cose. Un momento. Ok. Un attimo che salvo al volo per sicurezza. Un attimino. Ok. Ok. No, no, non voglio risalvare. Ok, adesso andiamo. Da, Mewtwo. Ok, Mewtwo. La battaglia sarà difficile? Sì. E non sto affatto scherzando, ve lo giuro. Vi dovete anche iper sbrigare. Perché come tutti quanti i leggendari. Hanno un lasso di tempo di 5 minuti. Iniziamo subito con un fiamma bam. Perché devo prima bruciarlo. Ed è anche più veloce di noi, Creepio. Ah. Fiamma bam, vai. Ok, sono riuscito a scottarlo. Perfetto. Sono abbastanza preoccupato, sappiatelo. Zona buia, buia. Da, psichico. Aia, mi sa che adesso mi shotta, mi sa. Da, dannazione. Bene, già iniziamo. Abbiamo iniziato male la battaglia. Tanto per dirne una. Andrà in campo un altro, ovviamente. Che potrei usare? Carolino, vai. Tanto per. Lo faccio evolvere. Tanto per. Però non so quanto possa funzionare. Vai. Fuoco bomba, vai. Sicuramente. Sicuramente Mewtwo sarà più veloce di noi, sicuro. Perché è onnipotente Mewtwo. Non per niente, è uno dei più forti, quindi. Vai. Non è psichico. Per favore, puoi evitare di shottarmi per favore Mewtwo? E mi ha shottato. Porca vacca. Oh, bestia. Ok. Mi conviene. Facciamo così, mi conviene. Mi conviene adesso dare un revitivizzante max a... A come si chiama? Ok, borsa. Ok, dov'è? Ah, red, vai. Vai. Ok, adesso sicuramente mi shotterà perché sono in parte veleno. Infatti. Mamma mia, questo coso. Quanto forte. Ok, ancora scottato. Ora, spero che zona buia buia sia un collaborativo, spero. Spero. Ok. 3 minuti e 6 abbiamo ancora. Spero di farcela. Zona buia buia, vai. Psichico. Ouch. Puoi evitare di shottarmi per favore? Aia, mi ha fatto anche di più di prima, dannazione. Ok, dai, più o meno, dai. Adesso cercherò di curarmi. Ok. Crebio. Adesso per un po' starò zitto, però sappiate che sono concentrato comunque. Psichico. Adesso mi uccide sicuro, infatti. Mi sa che sarà qui che ho utilizzato tutti quanti i rivitalizzanti max. Tanto per dirne una. 2 minuti abbiamo ancora, dai. Ce la posso fare, dai. Ok. Dai, ce la posso fare ancora. Devo solo curare ancora red. In modo che possa usare zona buia buia. No. Rivitalizzanti max, vai. Vai. 1 minuto e 56. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Neh. Ok. Sono piuttosto agitato, sappiatelo. Ok. Sì, quanto dura sta animazione che sei scottato? L'ho capito che sei scottato. Vai red. Faccio sti sospiri, però abbiate pietà di me. Poi la parte più facile sarà la cattura, visto che utilizzerò la tattica geniale. Vai, zona buia buia. Ora, spero che non mi sciotti con psichico, spero. Ok, puoi evitare di sciottarmi, può? Niu-Too, per favore? Ok, non mi ha sciottato. Vai, zona buia buia. Vai, vai, vai. Dovrei finirlo, in teoria. Perfetto. Ok. Adesso inizia la lotta. Bene proprio, a borsa. Master Ball. Sì, lo so. Ok. Perfetto. Uno. Due. Tre. Preso. Hai catturato Mewtwo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi miei. Perfetto. Tipo psico. Bellissimo. Perfetto. Bene. Usciamo da qui. Video piuttosto breve. Eh, lo so. Vai. Dove sei? Tascari Medi? No, non così. Pune di fuoco, vai. Usciamo. Da qui. Vai. Perfetto. Ehi, Furabio. Ah, non mi dire. Hai già catturato quel Pokémon? Si chiama Mewtwo. Wow. Sei stato più veloce di me. E anche di quell'allenatrice. Oh, niente. Ho solo incontrato un'allenatrice dall'aria selvaggia che stava cercando un Pokémon potente. Chissà se intendeva Mewtwo. Beh, in ogni caso tieni, te la regalano. A me non servono più. A proposito, poco fa anche quell'allenatrice è entrata nella grotta. Sono sicuro che starà ancora cercando Mewtwo. Perché non vai a farglielo vedere? Sì, ma nel prossimo episodio. Allora, amico mio. A quanto pare abbiamo incontrato il tuo clone malvagio, eh? Chissà che cosa ne penserà lui. Va bene. Spero che il video vi sia piaciuto, amici miei. Come dico sempre, iscrivetevi. Mettetevi mi piace. Lasciatevi i miei commenti. Iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram. E tu e ci, ovviamente. Che trovate sotto alla descrizione di questo video. Attivate la campanella. Condividetemi i miei video sui social. E noi, Pokafanatici, ci rivedremo. Presto!